Maria Santissima dei Miracoli continua a operare nella comunità di Mistretta. Malati nel corpo e nello spirito hanno offerto la propria sofferenza a Dio per intercessione della Madonna. Oggi, nell'ambito dei festeggiamenti nel centro nebroideo, è stata la giornata della sofferenza. Dopo lavoratori, professionisti, giovani, consacrati, i malati si sono affidati alla Madre Celeste. Centrali le testimonianze di Padre Nino Carcione, parroco di Maria Santissima Assunta, Cesarò, che ha raccontato come ha superato gravi problemi di salute, e di Don Silvio Rotondo, presidente dell'Oasi di Troina. L'Oasi, fondata 75 anni fa da Padre Luigi Ferlauto e dedicato a Maria Santissima Assunta, è uno spicchio di Sicilia in cui quotidianamente, nei fratelli e nelle sorelle sofferenti, i volontari vedono il volto di Cristo. E questo hanno raccontato, oltre a Don Silvio Rotondo, anche due volontarie. Poi la Messa, al termine della quale è giunta la benedizione eucaristica sugli ammalati presenti. Il viatico migliore per la giornata di domani, con il solenne pontificale presieduto dal Vescovo di Patti, Guilamo Giombanco, e la processione serale del simulacro marmorio di Maria Santissima dei Miracoli.